Principe Harry e Meghan non stanno corteggiando il mondo delle celebrità mentre cercano di stabilire la loro reputazione negli Stati Uniti, afferma un esperto reale. Il principe Harry e Meghan Markle sperano di affermarsi nel mondo della filantropia attraverso la loro organizzazione RQL, secondo un commentatore reale. Da quando ha lasciato la famiglia reale nel 2020, la coppia ha firmato un accordo multimilionario con il gigante dello streaming Netflix e ha annunciato una serie di progetti incentrati sull'emancipazione femminile e sulla giustizia sociale. L'esperto reale Nick Bullen ha affermato che i Sussex avrebbero bisogno di generare enormi quantità di denaro per costruire e mantenere la loro reputazione di leader mondiali. Nick Bullen, co-fondatore ed editore di True Royalty TV, ha dichiarato a Fox News. Chiaramente stanno facendo sentire la loro voce nel mondo della filantropia. Abbiamo sentito dire che Meghan è desiderosa di una sorta di carica politica. Non penso che stiano necessariamente corteggiando il mondo delle celebrità come si potrebbe pensare. Ma allo stesso tempo, costerà un sacco di soldi per finanziare le loro nuove vite. E penso che questa sia la cosa importante ora. Come faranno a generare enormi quantità di denaro per fare ciò che vogliono fare sia personalmente che professionalmente? Come faranno senza fare affidamento sul loro status reale? Il duca e la duchessa del Sussex hanno lanciato la loro organizzazione No Profit RQL nel 2020, dopo che è stato loro chiarito che non potevano continuare con la loro fondazione Sussex Royal. Secondo il suo sito web ufficiale, RQL scatena il potere della compassione per guidare il cambiamento attraverso il lavoro senza scopo di lucro e le attivazioni creative. In linea con il precedente lavoro della coppia per la famiglia reale, RQL si è concentrato su questioni come l'uguaglianza di genere, la conservazione e la salute mentale. I progetti degli ultimi mesi hanno incluso una partnership con la World Central Kitchen, dove la coppia ha finanziato quattro centri di soccorso comunitari in località come Mumbai e Porto Rico. I progetti dei sostanzi di fondazione I progetti dei sostanzi di costanzi di � pob I progetti dei ft di sostanzi di centro E nuovamente ho sukarelle Li da fonduca valia Grazie a tutti.